Strepitoso Alberto Bagnai termina il suo intervento al Senato rivolgendosi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dicendogli non so se il virus sia il risultato di un esperimento mal riuscito, di certo lei lo è. Ma l'appuntamento di giovedì prossimo del Consiglio Europeo, senza utilizzare un termine roboante come ad esempio storico, però insomma senza dubbio sarà importantissimo, almeno per i destini del nostro Paese. Tutta la settimana quindi sarà incentrata su quel che scatturirà appunto da quella riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Eurozona. Ma prima di parlare del tema odierno, fatemi dire un'altra cosa. Ricordate il mio video dello scorso 6 aprile, ve lo ramento io, il titolo era Sarà messo ma non lo chiameranno così. E allora non so se avete ascoltato oggi l'intervento del senatore Marcucci del PD, sempre al Senato appunto. Ebbene, splendido! Rivolgendosi a Conte lo ha esortato a cambiare i termini di comunicazione. Gli ha detto, presidente, tolga la parola mess, non lo chiami più così. Avete capito? Avete visto che, insomma, vedete che se mi seguite, insomma, potete anche venire a conoscere qualche notizia 15 giorni prima che poi si verifichi. Non lo chiameranno così, daranno EPCP, che non è il mess, ecco. Vabbè, lasciamo perdere comunque le cose di casa nostra ed apriamo una finestra più internazionale. Certo, naturalmente rimango sull'argomento. Parlo di un fatto molto importante. Innanzitutto, voi sapete che cos'è il Financial Times? Sì, certo, lo so che sapete che è un giornale economico inglese, anzi, il più importante giornale economico inglese, anzi, il più importante giornale economico del mondo. Ma intendo dire, sapete che cos'è realmente? È l'organo ufficiale della finanza mainstream, della finanza globale, non so come chiamarla, insomma, comunque voi avete capito. Quindi spesso viene utilizzato proprio il Financial Times per inviare messaggi ai politici di tutto il mondo. Insomma, chi ha in carichi politici di rilievo di grande importanza? Io penso che prima di leggere qualsiasi altro giornale la mattina è bene che lega il Financial Times, insomma, lì viene a conoscere alcune cose. Ebbene, l'editorialista per i temi economici europei, il giornale inglese gli attribuisce questo ruolo, redattore associato. Comunque, insomma, noi chiameremo l'editorialista, insomma, quello che fa gli editoriali. E' un tedesco e si chiama Wolfgang Münchow. Ebbene, gli articoli di Wolfgang Münchow vanno quindi letti con attenzione e un paio di giorni fa ha scritto un pezzo assolutamente interessante, pieno di messaggi subliminali, o meglio, anche espliciti direi. Il titolo, adesso lo traduco così io alla buona, sapete che non sono molto ferrato nella lingua inglese, Comunque, il titolo più o meno è L'Italia è più in pericolo di quanto la zona euro sappia. Insomma, una cosa così. Il giornalista sostiene che in Italia si stia, così, montando un sentimento anti-europeista simile a quanto era accaduto anni fa nel Regno Unito. Un sentimento anti-europeista che, come sappiamo, poi aveva portato alla Brexit. Quindi, Münchow lancia subito un allarme. Gli italiani incolperebbero l'Europa per i loro problemi di carattere economico, insomma. Problemi che, per il giornalista tedesco, sono effettivamente di gravità assoluta. E soprattutto, come espone nel titolo, sarebbero problemi sottovalutati dall'Europa. Per Münchow il problema, vabbè, non solo per lui, ma comunque il problema più importante è quello del debito italiano. Debito che verrà ingigantito dall'emergenza coronavirus e quindi potrebbe diventare presto irrisolvibile, con il rischio che possa esplodere da un momento all'altro. Il rapporto debito-PIL, attualmente è all'incirca intorno al 136%, salirebbe, secondo il giornalista tedesco, verso la fine dell'anno intorno al 180%, anche tenuto conto appunto di previsioni infatti dal Fondo Monetario Internazionale. Causa, naturalmente, di questo aumento sia l'aumento del numeratore, ossia del debito, che la diminuzione del denominatore, ossia del PIL. Assisteremo quindi al falimento di decine di migliaia di aziende, con un incremento vertiginoso della disoccupazione. Visto il quadro terrificante, a questo punto, Munchau disegna tre scenari possibili. Primo scenario, l'Italia fa richiesta del MES. Non stiamo parlando del MES Lite, quello lì da 35 miliardi per le spese mediche. No, 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 fa proprio richiesta del MES per evitare il default, insomma. Ossia, ci portiamo in casa la Troica. Munchau lo ritiene un evento non molto probabile, essenzialmente per due motivi. Il primo è che politicamente non ci sarebbe una maggioranza sufficientemente coesa in questa direzione, sappiamo infatti che a perlomeno una frangia del Movimento 5 Stelle proprio chiude le porte al MES. Certamente, se si dovesse proseguire su questa strada, il Movimento 5 Stelle si spaccherebbe e portando così al termine questa esperienza governativa. Se quindi scartiamo il MES, per Munchau all'Italia non rimane che dichiarare default, o perlomeno una ristrutturazione del debito, insomma. A quel punto certo interverrebbe la BCE per far rimanere l'Italia all'interno dell'Eurozona, ma certamente gli effetti sul nostro paese sarebbero devastanti. Ad essere colpito in particolare sarebbe il settore bancario, quindi non si possono escludere, anzi, si possono prevedere una serie di fallimenti di banche, anche se naturalmente verrebbero salvati i correntisti, i depositi, insomma. Terzo scenario, e qui viene il bello. Dopo aver dipinto due scenari così, uno peggio dell'altro, cioè due scenari proprio apocalittici, uno si aspetta che il terzo scenario sia ancora peggiore, no? Ebbene, sapete per Munchau quale sarebbe lo scenario peggiore, anche se a suo dire, attenzione, il meno probabile? L'uscita dell'Italia dall'Euro. Ora, cari ascoltatori, certo mi viene da ridere, ma avete capito, perché io ogni tanto poi dopo mi accaloro e ho visto che anche in Senato bagnai accalorarsi tanto, perché ci vengono prospettati fondamentalmente tre scenari, due porterebbero al collasso il nostro paese, distruggendo la nostra società, insomma, una catastrofe. Il terzo invece risolverebbe tutti i nostri problemi, senza portare alcuna sofferenza alla popolazione, cioè capite, noi dovremmo scegliere tra opzioni totalmente differenti, cioè non dovremmo avere il minimo dubbio, cioè io capirei, voglio dire, se fossimo spacciati in ogni modo, vabbè, scegliere una cosa o l'altra, ma qua invece dobbiamo scegliere tra morire o vivere bene, cioè è incredibile. Allora la domanda che naturalmente ci sorge spontanea è, ma scusate, ma il nostro governo, ma è colluso con chi vuole vedere il nostro paese distrutto? La risposta non è semplice, io ritengo che in parte sì, purtroppo sì, ma molti, alcuni, molti, non so, neanche dagli una quantità, secondo me molti non ci arrivano proprio, cioè non lo capiscono, lo so è brutto fare nomi, ma ad esempio cosa volete che capisca un Toninelli o cosa volete che capisca un Buffagni, cioè secondo me proprio non sanno neanche loro perché si trovano lì, diverso invece è così, questo sì, la figura di Giuseppe Conte, la cui ambiguità adesso è del tutto evidente e la lascia trasparire ogni suo intervento, anche quello odierno in in aula. È evidente a tutti che con la scusa del coronavirus da mesi il Parlamento è stato praticamente esautorato. Oggi non hanno neppure permesso di votare per dare al Premier una chiara indicazione prima di recarsi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Alle opposizioni hanno concesso così qualche minuto dopo che per mesi sono state silenziate. E lui, il Conte, cosa dice? È che lui si è sempre dimostrato disponibile ad ascoltare i suggerimenti da qualunque parte essi fossero arrivati. Non so, prende in giro il Parlamento. Poi senti l'intervento, per esempio, no, giustamente del rappresentante dei Fratelli d'Italia che dice che per esempio sul cosiddetto Cura Italia, Fratelli d'Italia aveva ridotto al minimo, aveva proposto 20 emendamenti, non 2000, 20, accettati zero. Questa è la disponibilità di Conte e del governo. Quindi, Conte, il tuo comportamento è francamente offensivo. Io mi chiedo, ma che persona sei? E soprattutto mi domando, ma da che parte stai? E l'Italia vorrebbe saperlo.